Benvenuti ragazzi, bentornati nel mio canale, sono LollomantaSatization, sono qua in questo nuovo video. Allora, prima di iniziare vorrei perdonarmi per il ritardo di questo video. Adesso però siamo qua, diciamo, due volte ho messo questo video e ancora non so il perché, adesso sto rifacendo l'audio, cioè sto rimettendo l'audio, quindi vediamo se è per questo oppure non lo so. Andiamo subito a vedere, eccolo, Draft Entries, abbiamo un gettone foot, quindi possiamo utilizzarlo, che sarebbe quello per cominciare a scoprire. La scoperta di questa nuova esperienza con questa nuova modalità solo su foot, ovviamente. C'è anche l'offline, quindi si potrebbe anche giocare offline. E so che il costo per fare questa cosa sono 15.000 crediti. Vediamo subito la formazione, noi a poco la scegliamo. Andiamo 4, 3, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 1, 4, 1. Mettiamo il 4, 1, 4, 1, un po' alla Gabbo di Squared. Ok, allora, Robben, Matic, Turan, Quadrato e Ciabi Alonso. Mettiamo Turan perché mi è simpatico. Poi qui abbiamo Neymar, André, Arbeloa, Miraias e Victor Valdez. Intanto, ecco la squadra compitata con Bravo, Tremolinas, Mathieu, Vermeulen, Fran. Poi Neymar, intanto, Chiusa Player, ma niente da fare. Balenciaga, dobbiamo forse mettere. Cazzo lo mettiamo a casa, così. Poi un po' l'altro, Triveto, Triveto, Scarzo, Munir, Munain, Munain, mettiamo, no? Vabbè, l'altro, Scarzo. Poi, centrocampo con Neymar, Borca Valero, Allan, Guarin Nero, che non ho mai avuto l'opportunità di giocare. Turan e centravanti puro, Antoine Griezmann, allenatore, scusate per la tosse. Eccola qua la formazione con 92 di intesa e 82 di valutazione. 8 giocatori spagnoli, tra cui 11 della Liga Spagnola e 5 del Barcellona. Ecco, i top players sono Neymar, Turan e Claudio Bravo, il portiere del Barcellona. Tutti i giocheri del Barcellona, tra l'altro. Dai, spaccami i culi questa volta, regà. Dobbiamo spaccare i culi. Andiamo subito a cercare l'avversario. Advance. Search of opponent. Vediamo un po'. Dai, 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 su, cercami l'opponente. Eh, regà, non me lo trovo. Niente, come l'ha trovato, riproviamo. Ma mi pare strano, perché tutti stanno portando questo tipo di video, ma non capisco il perché non mi trova nessun avversario. Dai. Eccolo qua, abbiamo trovato. Giochiamo contro il Ravenna AS. Abbiamo queste due magliette. Maglietta che ci si dona è maglietta della Roma, fuori casa. Eccoci qua. Stiamo per cominciare. Ci si dona contro Catanzaro. Vediamo un po'. Ah. Begovic. Poi qui, lui, ne so. No, quello che cazzo è? Vabbè, non lo fa neanche quello. A di questa, non so, poi ci sta Sterling, Ramire, Stiagumotta, Rob, Lewandowski e non so quello che cazzo sia. Eccoci qua nella partita di quest'oggi al HAL HANIEND STADIUM. Ovviamente l'avrò detto malissimo. E questo comincia subito con 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 Premendo Star. Ok. Va bene. Spero che sia la prima e l'ultima volta che mette in pausa perché sennò veramente... Allora, dai, su. Eccolo qua, ha cominciato con il Ravenna AS in battuta. Subito aggressivo. Prima azione della Longobarda con Guarin. Guarin mette in mezzo per Griezmann. Il portiere la butta fuori. Ma che stop di merda, Alan. Ancora Juanfran. Ancora Alan. Alan per Griezmann. Griezmann, Griezmann ha visto? Alan, Alan. E il tiro di Alan, la parata di Bekovic. Incredibile. Ancora la Longobarda con Griezmann che la mette in mezzo. Diviazione. Diviazione. Fuori. Griezmann. Attenzione, ragazzi. Possiamo fare il colpaccio. Possiamo segnare. Dai. Dai, Borca. La mette in mezzo per Alan. Alan, non è alto mezzo, cazzo. Vai. Bravo, cazzo. Tremolians. Vai, Tremol. 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 Non tremola veramente. Prendi palla. Passaggio per Neymar. Palla per Borca Valero. Vai, Borca. Vai, Borca. Per Alan. Ah, perde palla Alan. Sterling. Attenzione. Grandissimo intervento di Matiè. Ma perde palla. Ah, riconquista. Per Man, Alan. Bellissimo per Griezmann. Griezmann. Mettila nel sacco. Mettila nel sacco. Tiro smorzato. Il difensore è giallo rosso. Mettilo in pausa. E non mi piace. Mi sa che toccherà che utilizza tutti quanti le pause. Purtroppo, per sfortuna sua, ancora la lungobarda con Chebabbara Turan. Vai, Chebabbaro. Per Borca Valero. Il tiro fuori di un soffio. Un grande missile da parte di Borca Valero. Azione. Attenzione. Ok. Bellissimo. Saga è bravo. Lancio per Arda Turan. Che va via benissimo. Con una fintossa tattica. Ma viene anticipato da Sterling. Sterling. Prende palla. Sterling. Sterling. Ok. Sterling. Fa lo Sterling. Speriamo che non ci ammunisce. Invece non ci ammunisce. Juanfran. Ok. Va bene. Adesso mi faccio posizione. Attenzione. Bertrand la mette in mezzo per Robin. Mamma mia, grandissimo intervento. Vai di mare. Ok. No. Non va bene per niente. Robin ne prende palla da Mathieu. Occhio a Robin. Se c'entra. Robin. Bravo. Mathieu. Ci pensa a lui. Occhio. Lewandowski per Tego Motta. Vermelen. Bravo. No, no, no. Cazzo. Porca puttana. Mette in pausa. No, no. Cazzo. Che ciò che è merda. Vabbè dai. Ti amo molto. Ma ha segnato. Che schifo. Che schifo. Vai col tiro buggato. Niente. La prende Bekovic. Dai. Un'altra azione della Longobarda. A scalare il primo tempo. Dai. Allan. Che passaggio di infantile da là. Tira. Fini del primo tempo. 1-0 per il Ravenna. Un tiro in porta. Poi tra l'altro ha fatto. Noi quattro tiri. Uno in porta. Non è che me è chiuso. Dai. No. No. Lewandowski. Lewandowski per Robin. Non mi piace stazione. No. Torna in porta. Bravo. Bravo. Cazzo. No. No. Tremonia. Vai Griezmann. Griezmann per Alan. Alan. Per Griezmann. 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 La difesa avversaria è fare un gol meraviglioso. Mamma mia. Antoine Griezmann. Grandissimo giocatore. Vai. Ancora Griezmann. Per Guarin. Guarin. È bello per Griezmann. Ecco. Riva. Fancudo. Attenzione alla casetta. La casetta. Per Lewandowski. Ma c'è Mathieu. Mathieu. Non fa ste cazzate. Figlio di puttana. Ancora Alan. Vai Alan. Vai. Guarin. Uuuuh. Il palo. Il palo di merda. No. Fammi resta. Fammi resta per la casetta. La casetta. No. Grande. Bravo. Grande. Bravo. Dai. Dai ragazzi. No. 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 Mamma mia. Mi ho visto dentro. Mi ho visto dentro. Mi ho visto dentro. Quindi secondo tempo. Si va ai tempi supplementari. 1 a 1. Speriamo bene. Speriamo di arrivare ai ricordi. Perché non mi... Mi piacciono i ricordi. No. Lewandowski. Lewandowski. No. Meno male. Una fischia del fallo. Sterling. La mette in mezzo per la casetta di testa. Claudio. Bravo. Prende tranquillamente il pallone. Quindi primo tempo supplementare. Sempre 1 a 1. Poche azioni. Poco divertimento. Ma sti cazzi. L'importante è che... Dobbiamo riuscire a segnare. Vai. Tremorinas. Sull'out di destra. Mette in mezzo. Era quasi un tiro. Vai. Un tiro grosso. Che altro. Ancora Robben. Arian. Robben. Arian. 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 Vista dentro. Arian Robben. Neymar. Penetra nella difesa. E verserà ancora. Mamma. No. Mortacci tua. Mortacci tua. Se andate di... No. Devi alam. Se andate di... Calci di rigore. Cominciamo noi con Griezmann. E il gol. La rete. Di Griezmann. La casetta. Contro Claudio Bravo. Il tiro. Gol. Neymar. Contro Bekovic. Il tiro. Bellissimo. Gol. Cucchiaino. Spendendato. Spettacolare. Claudio Bravo. Contro Matip. Gol. Borca Valero. Stanchissimo. Tra l'altro. Gol. Dai. Dai. Dai ragazzi. Dai ragazzi. Ibarbo. Contro Claudio Bravo. Tiro. Il gol. Tiro decisivo. Se pariamo questo abbiamo vinto. Dai. Dai. No. No. Ho sbagliato di poco. Tremo. Linus. Dai. Segna Tremo. Forse anche senza è buono. Dai. Tremo. Dai. Tremo. Ramirez. Sabiamo che lui comunque è bravo. Se di voi. Sarà molto difficile prendere questa palla. Spero. Invece. Non l'abbiamo presa. Matti. Contro Bekovic. L'ha presa. Porca troia. Bertrand. Contro Bravo. Il tiro di Bertrand. Abbiamo perso. Riga. Abbiamo perso. Purtroppo. Ai rigori. Con un gol di merda. Poi. Da parte. Di la Ravenna. E' a. 670 milioni di così. Andiamo a vedere anche i pacchetti che ci hanno dato. Due pacchetti in merda. Ah no. Gold pack. Ah ok ok. Due pacchetti oro. Normali. Un pacchetto. Silver. Argento. Niente. Ma sicuramente ci sono pacchetti di merda questi. Non possiamo non pretenderci di trovare guarina nero. Secondo pacchetto d'oro. Vai. Clark. Che cazzo sei Clark. Ma pure un giocatore che ci fa unico. Non so. Un decimita credit. Così braquisizio. No eh. Fa proprio sciocchipo eh. Alla ba. Un pacchetto silver. Adni. Adini. Niente. Vabbè ragazzi. Vi saluto e vi ringrazio. Lasciate un like. Iscrivetevi al canale. Lasciate un'iscrizione. Fanpage di Facebook. Canali Twitch. Condividete tutti i social. Ci sentiamo al prossimo video. Bella. Ciao. 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 Ciao.